Ha superato le mille firme la petizione del Comitato Civico Patrimonio Termale e l'iniziativa non si ferma neanche a ridosso del Capodanno. Ieri si è svolta in piazza Angelo Scandaliato, questa mattina in via Cappuccini. Ci sentiamo presi in giro dal Presidente della Regione, hanno dichiarato questa mattina gli esponenti del Comitato. Abbiamo voluto proprio rilanciare il nostro discorso. Il Capodanno è l'ultimo dell'anno, ma il primo gennaio chiude l'Antiquarium, che era un po' l'ultimo baluardo aperto della storia del patrimonio termale di Sciacca. Noi così lo consideriamo, quindi un tassello dell'azione che stiamo facendo per cercare di arrivare all'obiettivo di rivalorizzare nuovamente il patrimonio termale. Quindi l'Antiquarium è diventato una sorta di simbolo quasi. Ci sentiamo presi in giro perché, a nostro avviso, tutto quello che è stato detto, il progetto di rivalorizzazione, di ristrutturazione, non c'è nulla di vero. Temiamo che vadano via i reperti, temiamo che se va bene l'Antiquarium possa essere trasferito in un altro posto. Non significherebbe affatto che vada bene, perché l'Antiquarium deve rimanere lì perché è il suo sito naturale, perché è la storia millenaria del Monte Cronio. E quindi ci sentiamo scippati di questa cosa, è autenticamente presi in giro, perché le motivazioni che ha utilizzato il Presidente della Regione del progetto di valorizzazione, di ristrutturazione, non abbiamo potuto prendere visione di alcun progetto, non abbiamo una data, non abbiamo preso visione di nulla, non è vero nulla. Quello che ha detto il Presidente della Regione, noi lo abbiamo messo nel nostro comunicato, la frase, Così come è tenuto e gestito l'Antiquarium costituisce un'offesa alla tradizione culturale e turistica di Sciacca. Credo che un'offesa sia questa frase del Presidente della Regione, perché intanto l'Antiquarium non era affatto tenuto così male come il Presidente della Regione sostiene. E in ogni caso, se fosse vero, ci doveva essere un rimedio, cominciare a gestirlo bene, non certo chiuderlo, e non certo chiuderlo senza che ne sapesse niente e nessuno, senza che lo sapesse il Comune, senza che la città di Sciacca fosse in alcun modo coinvolta. Quindi è l'ennesimo scippo che questa città subisce. Per questo noi la petizione la continuiamo a tenere aperta. Abbiamo già superato le mille adesioni abbondantemente tra quelle online e quelle fisiche. Questa petizione a questo punto assume quasi un valore simbolico. è un esercito di mille persone che vuole dire no a questo continuo scippo, a questa continua violenza che la nostra storia, la nostra città, le sue prospettive turistiche e termali subiscono. Di cui a questo punto anche l'Antiquarium non è più solo un tassello, come diventa quasi un simbolo di questa triste situazione. Franco Zamuto, si chiude un 2019 che ha visto intanto la Costituzione del Comitato. Le battaglie avviate per il 2020? Il 2020 abbiamo la tappa del 6 marzo che noi la stiamo considerando un punto di partenza importante che è quello di ricordare i cinque anni della chiusura delle terme che è stato un giorno nefasto per la nostra città e ne stiamo piangendo le conseguenze e il risultato si vede dalla crisi che sta attanagliando questa città che non vede sbocchi. Noi riteniamo che l'apertura delle terme sia fondamentale per riaprire la speranza di un'economia che cresce e chiaramente il turismo è il volano principale e noi dobbiamo fare in modo che questo volano riparta.